Un messaggio potente per confermare il supporto dell'Unione Europea all'Armenia. Siamo al vostro fianco, lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Shalmishel, che a Yerevan ha incontrato il primo ministro armeno, Pashinyan. L'Unione Europea vuole essere un partner leale e attivo per la stabilità e la sicurezza del paese e conferma ancora una volta il pacchetto finanziario senza precedenti di 2,6 miliardi di euro.